Finalmente è ripartita la pesca sportiva. Dopo due mesi di lockdown, per la gioia di Alberico Valente, campione di truttaria, i pescatori dovranno rispettare però alcune piccole norme. Sì, finalmente dopo due mesi di stop riparte l'attività della pesca sportiva. Noi in campagna siamo state una delle ultime regioni ad avere il consenso per poterla praticare. Attualmente non ci sono limiti di orari. Si può praticare sia in strutture private, quali laghetti, e in acque libere, quindi laghi, fiumi, mare. Per quanto riguarda le attività nelle acque libere, come già vigeva prima del Covid-19, c'è il buon senso del pescatore di mantenere almeno una distanza di 10-15 metri dall'altro pescatore per motivi di rispetto. Per quanto riguarda invece i laghetti privati, strutture private, si sono già organizzati in modo da poter mantenere una sicurezza per i pescatori, con distanze di almeno 2 metri da ogni pescatore, con l'obbligo di mascherine e guanti. Doveva disputare ad aprile a Tokyo la Barking Cup, competizione mondiale. Alberico Valente sarà protagonista nel sollevante il prossimo 2021. Sì, purtroppo a causa del Covid-19 sono stati sospesi vari campionati di pesca sportiva, tra i quali avevo gare molto importanti come quella che dovevo affrontare il 26 aprile a Tokyo in Giappone, ed era la finale della Barking Cup, che purtroppo è stata annullata e verrà disputata poi l'anno prossimo. E vari campionati, anche a livello un po' più amatoriale, che si dovevano tenere qui in Italia, è stato tutto annullato, sia nell'ambito della pesca trottaria, sia nel bus fishing, eventi di pesca sportiva in mare, quindi qualsiasi tipo di evento che potesse creare assembramento, quindi eventi sociali, sono stati tutti quanti annullati e rimandati al 2021. Non vede l'ora di tornare a gareggiare, ma soprattutto di primeggiare per tutto lo stivale. A me la gara mi manca parecchio, sia perché riesci a mettersi in gioco, riesci a dare il meglio di te, e c'è quello spirito di competizione che, diciamo, ti emoziona di più. E poi comunque, essendo che le gare le svolgono nella maggior parte del Nord Italia e il Centro Italia, comunque è un'occasione per poter rivedere e risalutare gli amici che abbiamo lì.